Musica Prima di iniziare la cerimonia, oggi è l'11 novembre, è il settembre, nove anni fa c'è stato l'attentato alle torre gemelle, che potrebbe essere definito come un nuovo potenziale holocausto, ma che è stato fermamente stroncato dai governi mondiali della lotta contro il terrorismo. E ricordo che in questo momento, visto che siamo nella sede deputata, ai ruoli amministrativi, dove vengono svolti gli interessi delle comunità, dove si fanno anche le battaglie politiche, quello è pieno della democrazia, quello che è stato un momento di non democrazia, chiedo su un minuto di silenzio, mi ricordo delle vittime dell'11 settembre. Un'altra considerazione prima di iniziare la manifestazione, è che esattamente un anno fa, a questa cerimonia, rifaceva il suo ingresso pubblico il nostro sindaco, l'ingegner Roberto Poloniese, come sapete, mai non c'è più. Però questo è stato un momento importante, perché era il suo premio uscito ufficiale dopo la malattia che aveva colpito nel premio vestito, ed aveva, appunto, delle parole, dell'elogio per gli studenti che l'anno scorso avevano meritato questo diploma di merito. Adesso passarei la parola a rappresentare all'amministrazione comunale il vice sindaco, il dottor Pietro Signorelli. Buongiorno a tutti. Oggi, molto semplicemente, direi che è come una festa. Una festa per i ragazzi premiati, per i loro compagni di scuola. Una festa per i genitori, che giustamente saranno pieni di orgoglio per i loro ragazzi. Una festa per l'amministrazione comunale, che può annoverare tra i frequentatori delle coppie scuole, degli alunni così bravi, così capaci. Io vi esorterei, vi esorto a continuare sulla strada che avete intrapreso, soprattutto tenete dentro una cosa che, qualunque siano le vicende successive della vostra vita, a questo momento, che nessuno mai potrà portare a via. Grazie a tutti e a tutti. Io voglio dire ancora una cosa prima di passare la parola all'ottoressa Vitali. L'anno scorso, quando abbiamo istituito questo premio, il diploma di merito, abbiamo fatto pensando a una cosa semplicissima, che poiché voi studenti, nel corso degli anni, sia a livello di scuole medie inferiori, sia a livello di scuole medie superiori, sappiamo giusto dare un riconoscimento per il lavoro svolto, che tra voi, di fatto il lavoro è l'attività scolastica, e ad aggiungere degli obiettivi così qualificanti non è facile. Voi invece avete proposto un profondo impegno per raggiungere questo obiettivo. E il significato di questa cerimonia è semplicemente il fatto che l'amministrazione un'altra si ricorda di voi, vi voglio premiare per questa vostra partecipazione, niente è riuscito al caso, ma il testimone di fatto che abbiamo messo una soglia molto alta, a livello di premiazione, proprio perché qui sta la bontà del lavoro svolto. Quindi fermo, passo la parola all'ottoressa Vitali. Bene, io ringrazio di poter essere presente, merito, è una cosa bellissima, poter raggiungere dei risultati ed è la dignità più grande che una persona possa esprimere. Io sono abitata, ho fatto un percorso e questo è un esempio, l'esempio della positività che le persone, che gli uomini, che noi possiamo dare agli altri. E per questo io devo dirvi grazie. Grazie perché siete un esempio che noi all'interno della scuola, dove siamo un servizio, e siamo un servizio pagato dai cittadini, quindi un servizio che deve collaborare con il territorio e con le famiglie, con i genitori, con i bambini, abbiamo bisogno di questi esempi per alzare il livello culturale di tutti quanti lavorano. Quindi io vi posso dire grazie ragazzi e andate avanti. Adesso direi che nel caso di cominciare la previazione degli stupendi, cominciamo in ordine alfabetico, eh? Valentino Michele. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E adesso passiamo all'esame di Stato. Suami di Marta Paola, c'è un'esame di Stato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.